Per fare un bottino di minera preparare un'insalata con carote, piselli, radicchio, polpa di granchio, polpa di gamberi, un goccio di salsa di soia e un rosso d'uovo per circa 18-20 in bottino di minera. Il bianco dell'uovo lo tenete da una parte. Dopodiché si passa a impastare. Prendete una sfoglia e fate questo movimento. Bagnate con il bianco dell'uovo gli angoli della sfoglia. E poi arrotolate come segue. Pronto da friggere. Due minuti, tre minuti di soia.